210.000 euro, grazie Formazione quella ufficiale Samir e Andrea, il nostro campione La famiglia dell'eredità A casa voi, speriamo, vi vada Di giocare insieme a noi, carta, penna, memoria Fate come volete, ci avviciniamo Alla ghigliottina, rispetto a ieri sera Andrea, peggio Perfetto, peggio La cuffia per il nostro Andrea 210.000 euro l'eredità Di questa sera Si va, ghigliottina Pianeta Terra Pianeta Ghigliottina Geologo La terra Terra Carta Cartina 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 Ghigliottina Proviamo a scegliere con un'altra suggestione Gamba Gamba Gamma Gamba 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 Ba Ghigliottina Perfetto A posto C'era 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 Per certi versi Perfetto Un play Terra Carta Gamma Ora Centro Cuore Centro Ghigliottina Bravo Bravo Dai Andrea Bravo TG PC TG TG Torino Genova Torino Genova Ghigliottina E dai 26.250 euro L'eredità di Andrea Terra Carta Gamma Centro TG Un minuto da adesso Dai Buona fortuna Andrea Outro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gamma, centro, TG. Difficile? Un po', difficile, un po'. Difficile. Difficile. No, io sento un po' così la nostra famiglia e poi il campione giustamente interessato. Difficile. Terra, carta, gamma, centro, TG. Se c'è una delle cinque che ti ha dato, non dico proprio la scintilla, ma insomma, ti ha spinto verso poi una parola? Terra e centro mi hanno spinto verso una parola, però non... Ricordiamolo, sei geologo, dottorato di ricerca. No, che problema, che è una cosa bella. No, è sempre un problema. Allora, cosa hai scritto, Andrea? Ho scritto... Gravità. Gravità. Ho sbavato più che scritto. No, vabbè, però è gravità, vale. Per le dottoresse notaglie, che salutiamo, va bene. E adesso, con calma, il cronometro non ti rincorre più. Potessi tu cambiare, cambieresti? Terra, carta, gamma, centro, TG? TG mi ha messo un po' in confusione. Non sono riuscito a legarlo con nient'altro. Cercavo... Tutte le sere lanciamo le nostre amiche e i nostri amici a TG1. E anche stasera li lanceremo... In terra, lanciare. Eh? No, no, dicevo... Non lo so. Guarda, ti dico una cosa. Per la parola terra, stasera sarebbe stata la ghigliottina perfetta per la nostra Claudia, l'altra campionessa. Quella terra lì. Quella terra lì. Quella terra lì. Dice quale? Sì, su questa terra, la nostra amata terra che tanto facciamo soffrire. Ma quella terra non è appunto la terra, il nostro pianeta, per quello dico Claudia, la nostra altra campionessa che lavora... In aeroporto. In aeroporto. In aeroporto se vola, certo, si decolla e poi si parte e si arriva. E quando sei a terra, ad esempio, l'aeroporto di Fiumicino, le compagnie, le strutture, possono offrire dei... Dei a terra. Servizi. Perfetto. Dei servizi a terra. Per i passeggeri, dice venga, venga con noi, una comoda navetta, la porterà Luisa, gesto di diniego e di dispetto. L'avevi trovata? Servizi? Ah, ho sentito un A, un lamento, Mazziniano. Sono stato con TG e Notizia. I servizi del TG che stiamo per ascoltare, guardare, apprezzare, che ci racconteranno la giornata. Centro Servizi, ovviamente l'agenzia che offre diverse tipologie di prestazioni. Noi qui all'Ereditare, nel nostro piccolo, abbiamo un sacco di servizi, gli abbinamenti, i paroloni, le parole corte e lunghe, i professori, io nel mio piccolo, il triello, tutta una serie di servizi per intrattenervi fino ai servizi del TG1. La gamma di servizi, veramente, guardi, non facciamo per vantarci, ma la varietà dei nostri servizi. La carta dei servizi con la quale gli enti erogatori di servizi, appunto, assumono impegni nei confronti degli utenti riguardo i propri servizi. Si è capito che la parola è servizi? Bene. Dice no, la parola di questa sera è... Bene. Andrea? No, Andrea Campina, sì, Andrea, due bis, la vendetta, perfetto. Samira, non glielo chiedo perché ha già capito tutto. E quindi, servizi a terra, ad esempio in aeroporto, la carta dei servizi, la gamma ampia di servizi a disposizione. E poi centro servizi e i servizi del TG1, che sta per arrivare la parola e servizi. Ce li faremo, troveremo la gravità giusta. Andrea, adesso, privi di gravità, con un po' di leggerezza. Grazie, Andrea, Samira. Grazie. Grazie. TG1 e i servizi del TG. Grazie. Grazie.